Ciao, sono Federtube e vi do il benvenuto in questo nuovo video. E come sempre, in questo periodo, quando i parchi sono chiusi, che si preparano per la nuova stagione, mi trovo a dire la solita cosa, ovvero che, anche se i parchi sono chiusi, al loro interno c'è vita. So che può sembrare uno simbolo, però questo è il periodo dove i parchi si stanno preparando per la nuova stagione e dove noi appassionati cerchiamo di portare il nostro sguardo all'interno di quei parchi per fare qualche ipotesi su quelle che saranno, o quella che sarà, la novità della stagione che riprenderà tra qualche mese. Però, appunto parlando di novità della stagione 2024, Gardaland qualche settimana fa ha, diciamo, aperto idealmente i suoi cancelli per uno sguardo al cantiere della novità 2024, che si dice sia una torre di caduta tipo Croc Drop di Chessington, un altro parco sempre di proprietà della Merlin e questa nuova torre di Gardaland dovrebbe avere un concept simile, ovvero una scenografia alla base con una creatura con le fauci spalancate, creatura che si presuppone sia un windigo, se ne è parlato molto anche i mesi scorsi. E in questo teaser che Gardaland ha pubblicato c'è anche un piccolo dettaglio che fa presupporre ad una creatura che potrebbe essere anche un windigo, però il teaser che ha pubblicato Gardaland ha qualche particolarità. Da un primo sguardo non sembrerebbe, ma con uno sguardo più attento, di particolarità in quel teaser ce ne sono anche troppe. E in questo video andremo ad indagare di questa particolarità, di questo primo teaser della novità 2024 che Gardaland ha pubblicato, tutta sotto una parola chiave, déjà vu. Ovvero quella sensazione che ci porta a dire, questa cosa qua l'ho già vista, non è una cosa nuova, mi sembra di aver già vissuto questa scena o questa situazione. E in questo teaser ci sono tantissimi elementi che mi hanno fatto dire, questa cosa qua mi ricorda qualcosa. E in questo video le andremo a scoprire, praticamente il teaser si apre con una veduta dell'esterno del parco e l'arrivo di alcuni operatori che, girando per le varie aree del parco, arrivano verso la zona del cantiere della novità 2024. E qua già mi fermo, perché guardando le pettorine di questi operatori, un brivido è iniziato a corrermi lungo la schiena perché avevo visto un colore abbastanza particolare, ma di questo colore ne parleremo a breve. Però questi ragazzi con la pettorina viola aprono i pannelli viola che delimitano il cantiere e trovano una pietra viola. E qua mi fermo del tutto, perché la comparsa di questa pietra ha fatto spaventare diversi appassionati. Ma questo perché non è tanto la pietra in sé, ma è il colore di quella pietra. Un colore che ha diversi appassionati riporta in mente un qualcosa come la stagione 2019. Perché la stagione 2019 di Gardaland ha avuto un colore predominante, ovvero il viola appunto. Ma la stagione 2019 di Gardaland non era una stagione normale. Era una stagione molto particolare, una stagione di cui tutti noi appassionati la ricordiamo temutamente. Ovvero l'anno della magia. Quell'anno in cui il colore predominante era il viola e sono state inaugurate attrazioni come la foresta incantata nel mezzo della zona western e il sequoia Magic Loop con le stelline. Una stagione che un po' tutti pensiamo e speriamo di essercela lasciata alle spalle. Ma certe volte quando qualche colore così come un viola ricompare, un brivido corre lungo la schiena. Speriamo non sia un qualcosa in stile magico. Diversi appassionati hanno già avuto le prime avvisaglie di preoccupazione quando hanno visto comparire i pannelli che delimitavano quel cantiere, così come anche dei cartelloni pubblicitari di questa novità. Io appena li ho visti ho detto ma sì ma figurarsi se il viola c'entrerà qualcosa. Lì sarà solamente un riutilizzo di pannelli che già avevano prima in magazzino e io me ne devo stare zitto. Perché quella pietra parla un po' chiaro. Ma se per caso qualcuno di voi ha il leggero sospetto che il viola, o il leggero timore anche, che il viola sia un colore predominante, con questa ipotesi vi potrei dire di preoccuparvi direttamente. Perché? Torniamo indietro nel tempo tra il 2014 e il 2015 quando Oblivion The Black Hole veniva sponsorizzato con una campagna marketing abbastanza carina. C'era questa webserie che iniziava con strani fenomeni che succedevano all'interno di Gardaland, dei finti servizi di telegiornale dove si parlava di uno strano avvistamento per poi sfociare nel seguire le vicende di due scienziati, due ricercatori che indagavano su questo strano fenomeno. In queste clip che vi ho messo in sovraimpressione non avete notato una predominanza di un colore così come l'arancione? E qual è il colore, o uno dei colori predominanti di Oblivion The Black Hole? L'arancione. Tant'è vero che le divise dei ricercatori che studiavano questi strani fenomeni erano appunto arancioni. E quindi, se le divise dei ricercatori di Oblivion erano arancioni, e l'arancione è uno dei colori predominanti di Oblivion, per le pettorine indossate come fossero divise di colore viola per la novità 2024, dovremmo preoccuparci. Spero di no, spero sia solamente un caso e che il colore viola non sia predominante, anche se un'altra piccola, diciamo, ipotesi possiamo buttarla in campo, perché in un video pubblicato dalla casa di produzione dell'attrazione, per presentare un'altra attrazione, alcuni appassionati hanno notato una cosa, che tra le varie clip si vedeva, adagiato a terra di questo capannone, un componente di una torre che ricorda molto la tipologia della torre che verrà inaugurata a Gardaland. E di che colore è questo componente? Viola! Io ho paura di dovermi preparare psicologicamente per vedermi un palo viola in mezzo a Shaman, e il viola scuro con il verde scuro dei binari di Shaman, da un mio punto di vista, o da una mia preferenza cromatica, non ce lo vedo molto bene come accostamento. Però tutto può essere possibile, magari quella che si vede in quel video non sarà la torre di Gardaland, ma sarà un'altra torre, oppure a Gardaland riverniceranno quella torre, facendola diventare non viola, ma il viola sarà un colore solamente alla base, o uno dei tanti colori solamente alla base. Quindi spero effettivamente che le divise di questi ragazzi non siano inserite con lo stesso stile con cui sono state inserite le divise dei licenziati di Oblivion e Black Hole, perché sennò sinceramente inizierei a tremare. Però qua lo vedremo quando l'attrazione sarà aperta. E quand'è che sarà aperta? A giugno. Non ad inizio della stagione, ma come preannunciavano con i cartelloni pubblicitari New Summer 2024, adesso col mini sito che il parco ha diffuso insieme al teaser, possiamo trovare un'indicazione più precisa, ovvero giugno. Quindi dovremo aspettare un po' per vedere questa novità di Gardaland in azione. Però ritorniamo alla pietra viola, perché lì vediamo questa pietra viola con incisi degli strani simboli, degli strani simboli che mi hanno ricordato qualcosa, perché soprattutto quando uno dei ragazzi ha trovato tra la ghiaia del cantiere una strana pergamena con dei simboli disegnati, ho subito pensato a un qualcosa, ma questi simboli con la pergamena messa come leggenda per tradurre questi simboli non ricorda qualcosa? Un po' come il concept della fila d'attesa di Jumanji Adventure. E infatti lungo la coda di Jumanji Adventure possiamo vedere alcuni geroglifici strani con vicino una leggenda, e questi geroglifici noi li possiamo tradurre per ingannare i minuti d'attesa a cui andremo incontro lungo la coda di Jumanji Adventure. E quindi qua mi ha fatto pensare una cosa, non è che lungo la fila d'attesa di questa novità potremmo trovare un concept simile, ovvero di simboli strani incisi su varie pietre lungo la coda, convicina una leggenda dove noi dovremmo tradurre quei simboli che lungo la fila d'attesa, traducendoli, ci porteranno verso una storyline, un concept, un'idea dell'esperienza che andremo a vivere e quindi ci daranno magari il perché noi affronteremo l'attrazione, quale sarà la missione che saremo chiamati a vivere una volta che noi ci adageremo sul sedile di quell'attrazione e spero che la coda abbia un concept più o meno così, che abbia una sorta di coinvolgimento o di interattività perché vedendo dal mini sito la portatoraria di questa nuova torre, di questa attrazione sarà di 350 persone all'ora e 350 persone all'ora può sembrare da un lato tanto ma in realtà 350 persone all'ora per un'attrazione è veramente veramente poco. Un conto magari a dire questa attrazione è a Chessington che rispetto a Gardland è un parco con dimensioni più modeste, più piccolino e quindi un'attrazione con una portatoraria abbastanza bassa in un parco come Chessington ci può stare ma in un parco come Gardland non ce la vedrei molto bene, più che altro perché Gardland è un parco con una nomea soprattutto qui in Italia molto potente, Gardland è un parco che attira molte persone, molti visitatori ogni anno e inaugurare un'attrazione con una portatoraria bassa mi sembra quantomeno controproducente perché se la portatoraria di una attrazione è bassa, alte saranno le code, tanti saranno i minuti d'attesa e quindi ho paura che da giugno potremmo trovarci davanti a uno scenario del tipo molte persone attratte dalla novità 2024 di Gardland vanno al parco per provarla e si creano lunghe code per provare questa flat ride che per carità una flat ride come novità non sarebbe male ma il problema sorge quando la flat ride è l'unica novità di un parco divertimenti e un parco con una nomea come Gardland può permettersi di più di una semplice flat ride come attrazione poi magari questa flat ride sarà inserita in un contesto scenografico incredibile, la coda appunto avrà degli elementi di coinvolgimento e lo voglio sperare perché comunque un po' di coinvolgimento in coda coinvolgimento che può essere dato da qualsiasi cosa magari da video, da effetti speciali, da tradurre dei simboli strani, da un qualcosa in più fa sì che la fila d'attesa possa passare da semplice zona d'attesa ha un tassello che compone il mosaico dell'esperienza che si andrà a vivere sulla attrazione quindi spero che possano anche studiare bene la fila d'attesa rendendola appunto non solo una fila d'attesa ma rendendola già un'esperienza che l'esperienza non inizi quando noi ci sediamo sul convoglio di quella torre ma che inizi già da quando noi ci mettiamo in fila d'attesa quindi spero veramente un qualcosa del genere però un parco come Gardland per quanto magari possa realizzare bene una flat ride per me potrebbe permettersi non solo una novità ma più novità se vuole puntare sulle flat ride e non è male puntare sulle flat ride Gardland già da diversi anni ha inaugurato delle flat ride che sono diventate iconiche basti pensare a Icarus, a Topspin, a Moonracker ecco prendiamo ad esempio Topspin e Moonracker inaugurate entrambe nel 1993 Gardland allora puntava tantissimo sulle flat ride però con una differenza ovvero che non puntava su una sola flat ride come novità portante per tutta la stagione ma ne inaugurava almeno due così come appunto nel 1993 ha inaugurato sia Topspin che Moonracker piuttosto che puntare su una singola flat ride avrei preferito che Gardland in questo 2024 potesse puntare almeno su due flat ride magari non necessariamente vicine magari dislocate in punti diversi del parco ipotizziamo un'altra attrazione da qualche altra parte magari in area spaziale tipo un Nebulats della Zamperla che è una tipologia di attrazione che io spero sempre che Gardland prima o poi la possa portare al parco perché la vedo come un'attrazione adatta a tutti per tutta la famiglia divertente un'attrazione che comunque qui in Italia non è molto diffusa quindi potrebbe anche incuriosire diverse altre persone quindi avrei preferito appunto l'inaugurazione non di una sola flat ride ma di due flat ride puntando quindi l'intera stagione non su un'attrazione ma su due attrazioni che avrebbero caratterizzato questa stagione in attesa del 2025 e il 2025 non è un anno casuale il 2025 è il 50esimo anniversario del parco quindi spero di trovare un qualcosa che possa sorprenderci un po' tutti però ritornando all'iscrizione di quella pietra che cosa stava scritto su quella pietra su quella pietra stava scritto una cosa che abbiamo praticamente tradotto tutti noi appena il teaser è uscito ovvero sconfiggi la maledizione e quindi qua mi ha ricordato qualcos'altro ovvero una maledizione da sconfiggere che non è quella della valle di re nella valle di re la maledizione non la dovevamo sconfiggere la provocavamo era diverso però mi ha ricordato il concept della croc drop ovvero la storia di fondo che orbita attorno alla torre di chessington perché croc drop racconta del dio sobek il dio egizio con le sembianze di coccodrillo che viene posseduto da un'entità maligna e noi salendo su quella torre dobbiamo porre fine a questa possessione un qualcosa che si potrebbe anche adattare rifarsi allo stile del windigo perché il windigo è questa creatura delle leggende dei nativi americani e sui pannelli pubblicitari viene scritto appunto un'antica leggenda dei nativi americani quindi immagino si vada verso quella direzione però il windigo è anche un'entità che possiede alcune creature così come anche degli umani quindi sconfiggere la maledizione potrebbe anche rifarsi al windigo che possiede una creatura x e noi salendo su questa torre dobbiamo salvare questa creatura dalla possessione del windigo e annullare appunto questa maledizione anche se sconfiggere la maledizione tra le righe lo vedrai come un'altra cosa perché in quello spazio dove troveremo la novità 2024 fino a qualche anno fa c'era sequoia adventure e poi sequoia magic club con le stelline e sequoia con le stelline tra i colori predominanti aveva anche il viola aveva dei colori molto accesi e quindi sconfiggere la maledizione magari potrebbe essere anche una richiesta d'aiuto magari il parco che dice vi prego venite ad affrontare questa attrazione questa torre per far sì che possiamo annullare questa maledizione che ci costringe a mettere un'attrazione in quello spazio con bassa capacità oraria e di un colore predominante che non c'entra niente con il contorno e quindi noi saremo l'unica speranza e se fosse così farei anche 100 giri in giornata su quella attrazione per sperare di annullare questa maledizione qua anche perché garden ultimamente deve annullare la maledizione delle attrazioni con portatore aria bassa perché oltre a questa torre a garden adesso esistono già attrazioni con portatore aria bassa oltre a sequoia adventure quando è stato inaugurato che mi ricordo che anche in una giornata di affluenza abbastanza bassa l'attrazione aveva delle file abbastanza sostenute non grandissime ma fila su sequoia adventure non magic loop però da qualche mi ricordo c'è sempre stata però anche kung fu panda master ma anche la stessa jumanji d'adventure non è che abbia una portatore aria grandissima quindi spero che questa attrazione possa portare a una sconfitta di una maledizione delle attrazioni con portatore aria bassa garden si spera però però un'altra cosa di cui volevo parlare in questo video era appunto di un concept principale di questo teaser perché perché questo teaser porta un concept che non è nuovo a garden ovvero il ritrovamento di un qualcosa di misterioso di strano nel bel mezzo del cantiere dei lavori per la novità della stagione corrente un qualcosa che mi ha fatto provare una sensazione di deja vu forte sensazione di deja vu forte intensa che farò provare adesso anche voi perché perché adesso faremo una sorta di cronostoria torneremo indietro nel tempo alla scoperta di oggetti strani rinvenuti all'interno di cantieri di garden della novità che in quegli anni veniva inaugurata tutto quello che dirò sarà nella finizione narrativa quindi tranquilli garden non ha cose strane sotto il suo suolo si spera però torniamo indietro nel tempo fino al 2007 2008 quando i riflettori erano puntati su mammut family coaster ma in trend della vecoma è una campagna marketing di cui si era fatto un piccolo accenno se non sbaglio era questo ritrovamento di alcuni resti di mammut nel cantiere che ospitava i lavori che avrebbero portato alla costruzione ed apertura di mammut mi ricordo anche un mini sito dove c'era un cubo di ghiaccio dove noi con uno scalpello ovviamente virtuale dovevamo spaccare il cubo di ghiaccio non il mammut al suo interno per questo promo nessun mammut è stato maltrattato però mi ricordo che con quello scalpello si picchiava sul cubo di ghiaccio che faceva risvegliare mammut che poi ha portato alla storyline dell'attrazione questa fuga da questo mammut ritrovato ancora in vita andiamo avanti di un anno nel 2009 quando si stava presentando rams e sir risveglio la campagna marketing raccontava di strani fenomeni nelle profondità del tempio di abu simbel di gardaland una strana energia che iniziava a propagarsi nel tempio e quindi veniva chiamato un gruppo il gsu ovvero il gruppo studio ufologici per indagare su questi strani fenomeni e noi poi una volta entrati nell'attrazione quando è stata inaugurata imbracciando le nostre pistole laser iniziavamo a intraprendere una battaglia laser con l'esercito di gadesh che volevano riportare rams ancora in vita se non sbaglio andiamo avanti ancora di un anno nel 2010 c'è stato un altro strano fenomeno all'interno di gardaland e qua la campagna marketing devo dire è stata geniale forse è stata più geniale la campagna marketing dell'attrazione stessa perché l'attrazione che si presentava era inferis il labirinto del terrore credo una delle attrazioni che tutti noi appassionati la conosciamo come quella che floppò di più insieme a shaman col visore all'interno di gardaland però gardaland per pubblicizzare inferis per fare la campagna marketing aveva fatto una scelta genialissima perché aveva aperto un blog e in quegli anni 2009 2010 più o meno i blog andavano molto c'era facebook che stava comunque prendendo sempre più piede però altri social che adesso usiamo comunemente o non esistevano oppure erano poco usati poco diffusi e uno dei social più diffusi che ai tempi si aveva era appunto il blog e su questo blog si raccontava di questo ragazzo che se non ricordo male si chiamava lorenzo zuccherini o lorenzo zaccherini che se per caso l'interprete di lorenzo zaccherini sta ascoltando questo video grazie perché mi hai tenuto col fiato sospeso durante la presentazione di inferis perché era anche avvincente come l'avevano scritto o meglio il me di quegli anni la trovava avvincente però mi ricordo che si parlava di questo ragazzo questo lorenzo che si era ritrovato chiuso all'interno di gardaland e nottetempo aveva scorto all'interno di una tensostruttura quella che poi ospitava inferis il vecchio convention center in questa tensostruttura aveva scorto delle candele accese un canto tipo gregoriano però in stile infernale se non sbaglio anche un suono d'organo un odore di zolfo come se gli a gardaland si fosse aperto un varco per l'inferno cosa che poi ha portato all'apertura di inferis ovvero un'attrazione dove noi entravamo fisicamente all'interno dell'inferno praticamente e poi mi ricordo che quella campagna marketing era diventata anche un po sull'horror thriller perché a un certo punto questo lorenzo era scomparso nel nulla poi mi ricordo che prendi scomparire aveva visto dei fenomeni strani così come sulla finestra di casa sua la comparsa dei piccoli sei rifacendosi al 666 il famoso numero del diavolo e parlando di diavolo la campagna marketing di inferis aveva portato anche al far girare un interprete vestito da diavolone in qualche via di qualche città ma da inferis con questo strano ritrovamento dell'inferno a gardaland passiamo nel 2011 quando nel bel mezzo dei cantieri per le nuove imponenti montagne russe d'italia come raptor lo si presentava nel 2011 lì si raccontava di strani fenomeni nel terreno di gardaland perché pareva che la temperatura del terreno cambiasse e si era ritrovato nel sottosuolo del cantiere del terreno lì a gardaland un uovo deposto insieme ad altre uova da una creatura misteriosa queste uova poi schiudendosi avevano avviato un processo molecolare che avevano portato alla nascita di raptor un qualcosa che ci portava alla storyline di quello che sarebbe diventato raptor ovvero questa creatura misteriosa alata che ci rapiva e ci portava nel suo volo praticamente facciamo adesso un salto dal 2011 al 2015 quando una strana spirale arancione era comparsa nei cieli di gardaland c'è stato anche il ritrovamento di un oggetto ovvero il pipetum un oggetto di grafene che era come una chiave d'attivazione che attivava l'autocostruzione della struttura che sarebbe diventata poi quella di oblivion the black hole poi dopo un po la spirale dal cielo si schiantò nel terreno aprendo così un barco spazio temporale nel sottosuolo di gardaland e noi con oblivion the black hole dovevamo passare attraverso quel worm spazio temporale e quindi chissà se lo strano ritrovamento di questa pietra in questo 2024 ci porterà a quella che sarà la storyline della novità 2024 e quello sconfigge la maledizione mi fa presagire un qualcosa del genere però comunque sia il video finisce qua e come sempre non mi resta che augurarvi buon divertimento buona vita e noi ci rivediamo in un prossimo video ciao